Camp lisciante per capelli, adesso ve lo faccio rivedere nuovamente, eccola qua, se voi andate nella pagina MTC Parrucchieri potrete trovare la promozione, aderire, c'è il pulsante, potete chiamarci e mandarci un sms, un messaggio whatsapp, ci troviamo in via di Tor Vergata 39A, poi il numero di telefono lo trovate sempre nella descrizione qui vicino, allora il trattamento lisciante intenso a base di cheratina vegetale e olio di canama indiana sono proprio l'essenza di questo trattamento, fatto il fatto la durata dei 5 mesi che è oltre i 5 mesi perché abbiamo già realizzato tantissime alliscianti con Camp e anche la mia socia Manuela ha fatto l'allisciante, fantastico, è una persona molto difficile e voi sapete quando i parrucchieri trovano sempre il pelo nell'uomo. Allora, il trattamento garantisce risultati straordinari anche sui capelli più difficili, abbiamo già realizzato veramente anche su capelli afro e siamo molto soddisfatti del risultato nel rispetto della salute e del benessere dei capelli. Questa è una cosa importante, le nostre aziende dove noi usiamo prodotti sono altamente affidabili e noi ci crediamo tantissimo. Grazie per l'attenzione, buon sabato, buona domenica, buon mare e buon vento a tutti qua. Ciao.